Presidente Massimo Donati, Big Match è finito in parità, però dopo il pareggio ci avevi creduto alla vittoria? A noi ci sarebbe creduto perché la squadra ha dimostrato di essere una squadra vera, abbiamo fatto bene, i primi 20 minuti abbiamo avuto due occasioni di passare in vantaggio, poi su una punizione siamo andati sotto, nel secondo tempo abbiamo cercato di recuperare la partita, l'abbiamo fatta e al novantesimo c'era un rigore sacrosanto su granito che non è stato dato, per cui questo lascia un pochino di rammarico, però c'è da fare solo i complimenti alla squadra, al mister, perché hanno dato tutto quello che dovevano dare e anche nuovi si sono comportati molto bene. Altri due acquisti importanti sul mercato, Federico Valestri ha bagnato l'esordio con il gol del pareggio, te che lo conosci bene, cosa ci puoi dire? No, Federico è un ottimo giocatore, un ottimo ragazzo, oggi è ritornato in campo davanti a un pubblico e lui queste situazioni sicuramente le esalta, quindi per me è stato uno dei migliori in campo, sia come ha protetto la palla, poi ha fatto anche il gol dell'1-0, ce la fa gli solo i complimenti. Ecco sì, infatti è andato a esurtare sotto il settore ospiti dei tifosi Ponzacchini, tifosi Ponzacchini che anche oggi presenti, oltre un centinaio le presenze qui al Nardini di Casternuovo, incomiabili come sempre e anche abbastanza rumorosi. Sì, i tifosi hanno dato tutto, hanno sostenuto la squadra perché era un match importante, l'hanno capito, l'hanno preparato per tutta la settimana, oggi abbiamo dimostrato di essere un gruppo, una squadra vera e di avere alle spalle una città vera. Si torna via da Casternuovo con un punto in più? Sì, si torna con un punto ottimo e la sconfitta del Pietrasanta chiaramente ci porta un più due, però il campionato è lungo oggi, essere i primi oggi con due punti non conta niente, domenica sarà un altro big match con la Pro Livorno, così fino alla fine.